È stato il team composto da Giulia Guglielmo per l'Italia, Luis Amo, Francia, Francesco Perozzo, Italia, Sonia Giulia Raetschi, Romania, ed Eugenius Sapel per la Lituania ad aggiudicarsi la terza edizione del concorso di progettazione Regeneration 64 Hours European Competition che si è svolta a Riva del Garda. L'oggetto di studio era la realizzazione di un centro civico recuperando parzialmente l'attuale scuola di Rione De Gasperi. La proclamazione e la premiazione si sono tenuti alla Rocca ed ai vincitori è arrivato un premio in denaro di 3.000 euro. I 15 giovani progettisti selezionati per partecipare al concorso hanno lavorato, suddivisi in tre team per 64 ore consecutive. La proposta del team vincitore accoglie il mandato proposto dall'amministrazione comunale, cioè trasformare una parte dell'attuale scuola di Rione De Gasperi, dove si sta per realizzare un polo scolastico completamente nuovo accanto all'esistente, in un centro civico per la popolosa attivissima frazione e propone, accanto ad una porzione dell'attuale edificio opportunamente adattato, una grande sala civica polifunzionale, il tutto coperto da una complessa tettoia che ha la funzione di creare uno spazio permeabile alle più diverse frequentazioni. Feste, ritrovo dei residenti di ogni età, attività della vicina scuola elementare e di quella materna. Abbiamo colto l'occasione di questo concorso per sperimentare qualcosa di veramente innovativo, spiega l'assessore alle opere pubbliche Alessio Zanoni, cioè mettere assieme la prospettiva della demolizione di una scuola con la necessità di un centro di aggregazione che a Rione De Gasperi, diversamente dalle altre frazioni, manca.